Sì, ci siamo trovati in una condizione abbastanza strana, abbiamo provato appena abbiamo potuto riprendere, più o meno il 4 maggio mi sembra, a dividere gruppi in base a quello che erano riusciti a fare a casa, soprattutto in termini di corsa, era un po' la cosa che mancava di più. Abbiamo diviso il gruppo in tre sottogruppi e abbiamo fatto un lavoro progressivamente più di volume e di intensità maggiore durante tutte le settimane, fino ad arrivare alla scorsa settimana in cui abbiamo raggiunto più o meno con tutti e tre i gruppi quasi gli stessi volumi e le stesse intensità e quindi cade a pennello adesso questo cambio di regole per poter cambiare anche un pochino gli allenamenti. Beh, fino adesso i ragazzi correvano e facevano palestra, quindi il focus era un pochino sulla capacità aerobica e sulla potenza aerobica o sulle accelerazioni e decelerazioni. Adesso faranno la stessa cosa e ogni tanto utilizzeranno il pallone, utilizzeranno degli esercizi con gli allenatori o dei giochi, dei fitness games chiamati in cui faranno la stessa fatica di prima se non di più però attraverso l'uso della palla che è uno strumento che allo stesso tempo porta anche un po' di aspetto ludico insomma per loro che è importante. Allora, il gruppo non è così emogeneo, ci sono dei giocatori che sono tornati in forma magari con un po' di massa magra in meno, quindi un po' di lavoro di palestra, di costruzione fisica da costruire e qualcuno è arrivato con un po' troppa massa grassa in più, questo è normale all'inizio ma adesso bisogna cominciare a cambiare un po' la tendenza e bisogna abbassare questa massa grassa soprattutto però insomma abbiamo tempo e abbiamo possibilità di sistemare tutto quanto. Abbiamo fatto degli step con adesso la sesta settimana, la sesta settimana di lavoro la prossima avranno una settimana di lavoro individuale, quindi non è proprio una settimana libera ma avranno dei lavori da fare individualmente per poi fare un altro ciclo di quattro settimane e una settimana libera e ancora quattro e una settimana libera quindi andare a creare progressivamente un lavoro sempre più duro, più intenso.